4 marzo 1943, Lucio Dalla, quattro stofe e un inciso di violino, semplice semplice, ecco perché è stato un successo per la sua originale semplicità, la semplicità che è cosa ben diversa dalla banalità, la semplicità che è complessità risolta ed è espressione di generalità, quella di Lucio Dalla e della sua paroliera, perché tutti hanno compreso le cose semplici cantate all'interno di questa canzone che sono però difficili da imitare. E' il 1971, questa è la RAI, questo è il Festival di San Rimo, Lucio Dalla esegue il brano che arriverà al terzo posto a quel festival accompagnato dall'Equippo 84, gruppo già noto nel 71. La canzone però è molto diversa da quelle tipiche del periodo e soprattutto da quelle tipiche del Festival di San Rimo, è una canzone popolare da cantastorie, ecco perché si rende subito originale, ecco perché questa sarà questa sua particolarità a renderla il miglior testo del Festival di San Rimo del 71. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua però sapeva mare e quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima di essere ammazzato. L'incipit caratteristico della canzone è già il sunto della canzone stessa, una ragazza che diventa una ragazza madre, una ragazza che ha 16 anni, canta Lucio nel verso successivo, ed un uomo che la prende con sé, che di lì a poco morirà, anche la vita breve. Lucio canta infatti della sua vita breve ricordo, il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. Ecco, qual è il nome? È Gesù Bambino, Gesù Bambino è anche il titolo della canzone originaria, non era 4 marzo 43, ma Gesù Bambino è considerato irrispettoso, irriverente, irriguardoso dalla RAI e dal Festival di San Rimo. Prima censura, cambio del titolo, Paola Pallottino, che è la paroliera della canzone, propone a Lucio, e se usassimo 4 marzo 43, cioè l'anno di nascita tuo, la canzone allora diventa la canzone fondamentale per Lucio Dalla, la canzone del lancio di Lucio Dalla come artista, come poeta nel mondo della musica, 4 marzo 43, sua data di nascita, ma avrà sempre dietro questo titolo, Gesù Bambino, che in qualche modo lega Lucio Dalla alla sua religiosità. Mi riconobbe subito, proprio l'ultimo mese, è il verso originale della canzone, che non va bene, viene cambiato, mi aspettò come un dono d'amore fin dal primo mese, censura numero 2. Noi udiamo poi a un certo punto che nella canzone dice, giocava a far la donna con un bimbo da fasciare, ma anche qui la censura interviene, che trasforma, giocava alla Madonna con un bimbo da fasciare, censura numero 3. E ancora, è ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Qui la censura interviene, ma è facile pensarlo che sarebbe intervenuta, perché Lucio Dalla nel versetto originale aveva detto, e anche adesso che bestegno, quindi non gioco a carte, ma che bestegno e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino. E la censura questa è una censura facile, ci sono i ladri, ci sono le puttane, ci sono le bestegne. E meno male che dopo queste quattro censure la RAI non si accorge dell'evento più grande, non si accorge che Lucio Dalla aveva eseguito Gesù Bambino ancora prima dell'esibizione, della prima esibizione al Festival del 71. Nell'agosto 70 al Festival del Tirreno a Paola e nello stesso anno a un teatro bolognese, la sua città natale, 1970, altrimenti sarebbe stato bloccato. E' un brano allora questo, Gesù Bambino, 4 marzo 43, intriso di religiosità, ogni presente nelle canzoni di Lucio Dalla. Del resto non è forse lui che dichiara la fede cristiana è l'unica certezza che ho, una specie di baluardo per la sua barca sempre nel mare in tempesta e quindi quel faro che lo porta poi su un porto sicuro, su una terra sicura. Però che fede cristiana è quella di Lucio Dalla? Certamente è una fede a modo suo, una fede artistica, un modo di rompere la rigidità dello schema del cristianesimo, un modo di riconoscere l'assoluto, l'essenza cosmica ma a modo suo. Del resto nel 79, 8 anni più tardi, in Piazza Grande, lui canterà A modo mio avrei bisogno di pregare Dio. Lucio Dalla è più un angelo di fede, uno che va contro questa rigidità, rigidità dello schema della religiosità, trascende questo bigottismo che è il bigottismo dell'epico, l'abbiamo visto attraverso le quattro censure, almeno tre su quattro potevano essere evitate, è uno che conosce i passaggi di Gesù, i brocardi di Gesù e li mette in pratica, differentemente dal bigotto che è tutta maschera ma poi nel piano formale, nel piano sostanziale, nel piano pratico, non mette in pratica appunto gli esempi di Gesù. Lui canterà nell'85, se io fossi un angelo non starei mai alle processioni, nelle scatole dei presepi starei seduto fumando una malboro a dolce fresco delle siepi, se io fossi un angelo, l'angelo cristiano che è Lucio Dalla. Allora Gesù Bambino è il vero titolo della canzone. Lui infatti dirà poi, in quel periodo ero sviliduciato, volevo smettere, quella canzone fu per me una vera cura per andare avanti con tranquillità. Infatti fino a quel momento Lucio Dalla era amato certamente dalla critica ma era in viso al grande pubblico proprio per lo stile compositivo, proprio per il modo trasandato di andare, dandidivo, proprio per il modo in cui cantava. In ultimo, aspetto religioso, aspetto poetico dell'artista e della canzone, ma soprattutto la copertina del disco del 45 Giri. Ecco, da cui traspare questo profondo amore che il bolognese Lucio Dalla avrà sempre per la gente del sud, per il paesaggio del sud. La copertina originale del 45 Giri mostra il porto di Manfredonia, siamo alle pendici di questo sperone roccioso che è il Gargano, parte nord della Puglia, che è un modo, ancora un modo traverso, per via traversa, per mostrare quanto l'autore bolognese fosse legato alla gente, al paesaggio del sud.